Il dottore parlava di un accordo importante per afforzare la sanità dell'entroterra? Sì, perché nei nostri territori noi abbiamo, gran parte dei nostri iscritti fanno parte dell'entroterra e quindi il togliere l'ospedale, la riconversione dei piccoli ospedali aveva paventato nella gente la paura di essere abbandonati. Noi speriamo e cerchiamo con questo modo di ristimolare e di riappacificare la gente anche con la sanità che insomma un tantino era un po' bistrattata dalle nostre parti. Quindi con questo accordo speriamo di riportare gente da noi in ospedale senza fuggire in altri luoghi, senza anche spostarsi in maniera per dare tutta quella che c'è, l'assistenza delle malattie croniche, del paziente anziano, di tutta quella situazione di cronicità che è piena l'entroterra che gli anziani sono una gran parte della nostra popolazione.